Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, anche Cortona ritrova la Via Crucis, la rievocazione della crocifissione di Gesù, una Via Crucis davvero molto particolare che si snoda proprio nelle vie del centro storico di Cortona. Si parte appunto con due simulacri qui nella Chiesa dello Spirito Santo e poi via via che noi camminiamo in processione per le strade della città si uniscono anche gli altri simulacri che vengono portati dalle altre chiese come dalla Chiesa di San Benedetto, dalla Chiesa di San Francesco, dalla Chiesa di San Marco e ci ritroviamo poi tutti insieme con le autorità, logicamente i sacerdoti, il Vescovo nella piazza principale, Piazza della Repubblica, dove lì c'è appunto la benedizione del Vescovo e quindi ecco l'intervento dei sacerdoti. Che Pasqua sarà anche con questa scelta di Papa Francesco di far portare la croce a una Russia, a un'Ucraina? Insomma una scelta anche contestata ma il momento storico è davvero molto molto delicato e difficile. Il Cristo crocifisso ha preso su di sé i peccati del mondo, tutto il peccato del mondo, anche quello il peccato di oggi. La guerra è un grande peccato. Ecco il Papa ci sollecita continuamente a vivere dentro la vita buona, a cercare di volerci bene, ad andare avanti nonostante le differenze. E quindi anche questa proposta del Papa di coinvolgere nella Via Crucis al Colosseo anche due persone, tra l'altro gli infermieri, donne che fanno del bene, ha un significato molto grande. Nonostante ecco i limiti della guerra, le cose brutte di una guerra, c'è anche del bene nel mondo. E Gesù Cristo attraverso la sua passione ci dona proprio questa capacità di fare del bene, di vivere il bene, di generare altro bene.